Buonasera da parte di Giuliano Ciccarelli, struttura San Germano e Gnano per un interessante Life is Hotcher contro Facciamo Calcio. Gira con un disastro subito, inizia la partita con un pasticcio, in vantaggio il Facciamo Calcio, un disastro collettivo da parte della difesa del Life is Hotcher, intanto una dedica, parte probabilmente di un compagno, quindi inizia subito con l'handicap questa partita. A lui è deviato altro calcio d'angolo, il terzo per il Life is Hotcher. Caricato sarà il numero 91 per Illo, il solito per lui che è attaccante, dovrebbe stare abitualmente al centro dell'area eventualmente per spazzare e per colpire di testa quando si tratta di calcio d'angolo a favore. Pallone battuto corto, che grande gol ha fatto barbato, destro incrociare, 1-1. De Luca scende in posto dal basso, errore, cavaliere, occasione divorata da parte del Life is Hotcher che poteva fare 2-1. Regà si defila, sombrero, va dal numero 14, faraone. Regà, spizza con la testa e poi sotto a porta, Life is Hotcher 2-1, disattenzione da parte della difesa del facciamo calcio, segna Giuseppone, numero 50. Cavaliere, giocata, salta 1, salta 2, Cavalieri dentro, Regà col piatto, parata di ritrovato. Adesso sta spremendo sull'acceleratore il Life is Hotcher. Di Perillo, l'ultimo tocco è del numero 8 Rodriguez che si sta sacrificando molto. Perillo, questa volta a basso a cercare Regà e ancora Giuseppone, a non è che rimane in vita a favore del facciamo calcio. Barbato, Perillo, punta a cercare qualcuno in mezzo, non trovato. Regà, toccato, vediamo se può essere sanzionabile. E quindi calcio di rigore per il Life is Hotcher, conto ai passi. Perillo, grande parata da parte di ritrovato, che mette in vita il facciamo calcio, ancora però sotto di un gol. De Luca, velo, Giannino, Cavaliere capisce tutto, recupera il pallone. Giuseppone. Grande palla a cercare Regà. Schegge il palo. Grande occasione per il numero 22 che si dispera per un eventuale 3 a 1 non trovato. Calabrese. Giuseppone. Due volte. Regà. Può andare. Regà. 3 a 1. Quanto 3 ma da l'1. Cerca di andare da Cavaliere che si ferma. Si accorge che il pallone non lo può mai trovare. Calabrese. Ciuccare Rodriguez. Torcasio. De Via. Ranavolo. Prova con il destro. Alboretti ci mette la mano. Ritrovato. La testa. La Balsamo. Torcasio. Progredire in avanti a cercare il numero 53 ma da l'1. Alla fine, questo è il pallone. Facciamo calcio. E va con il numero 10. Arseni. Anche un po' la frustrazione. mare. Arseni conduce. Si fa vedere. De Luca. Palla per Giannino. Controlla col sinistro. Torcasio col mestiere. Su questa difesa termina la gara. Trebice fischio. Da parte dell'arbitro. La FI Soccer 3. FCM. Facciamo calcio 1. Buonasera da parte di Giorgio Carelli. Al prossimo match.